Musica Venerdì 27 gennaio 2017, buongiorno, anche oggi dalla redazione di Tredauna e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa ai servizi di TG News. Partiamo con la rassegna stampa, andiamo subito sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno e vedete, i vescovi sperzano i politici, le liste bloccate rischiano di spaccare il Partito Democratico, minoranze in allarme, a fondo di garantino dopo la sentenza della consulta non è normale un paese in cui la magistratura detta i tempi, Berlusconi ancora indagato oggettine pagate fino a due mesi fa. Vedete anche la vignetta di Piedinini, la CEI, la Comunità Episcopale, la Conferenza Episcopale Italiana critica la politica e vedete, fumata nera in pratica. Se la politica abdica alla funzione legislativa, nell'assetto delineato dai padri costituenti, la Corte Costituzionale rappresenta l'organo supremo di garanzia dei principi dettati dalla Carta Fondamentale e quindi un argine rispetto all'esercizio arbitrario della sovranità popolare, scandita dall'articolo 1 della Costituzione da parte del potere legislativo. Salvataggio Donuva, nuovo incontro a Roma, trattativa per le cliniche di Biceglie, Foggia e Potenza, altra piattaforma da sottoporre ai sindacati, si è approvata un referendum tra i lavoratori. Poi andiamo a vedere altre notizie. Hotel Rigopiano, estratti tutti e 29 i corpi delle vittime. intanto va avanti l'inchiesta, dunque si è conclusa l'operazione di recupero, di salvataggio in un primo momento, e di recupero delle vittime dell'hotel Rigopiano, 29 i corpi estratti dalle macerie, 11 le persone, anzi 9 le persone salvate. Inaugurato l'anno giudiziario in Cassazione, bacchettate ai pubblici ministeri, troppe fughe di notizie. Aprire finestre di controllo sulle indagini dei PM. Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, l'affondo diretto alle procure arriva dal primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio. Gli fa eco il PG della stessa Cassazione, Pasquale Ciccolo, che tuona contro le fughe di notizie da parte degli stessi PM. Quinto è mutuo impossibili, ecco i mammoni per forza. Giovanini a cercare lavoro, non siate chiusi, cioè schizzinosi, diceva Elsa Fornero, la ministra più odiata d'Italia, nonostante con la riforma della pensione da lacrime e sangue abbia in qualche modo sorretto la barca nazionale, in procinto di affondare in quel mare di debiti. Odiata la ministra del governo Monti, dagli anziani giunti alla soglia della guagnata quiescenza e costretti a rimandarla non poco, ancora più detestata dagli esodati finiti nel limbo dei disoccupati e al contempo fuori dal circuito previdenziale. A largo di San Vito, in Sicilia, tennista e subacqueo ritrovata una statua greca. Gran Bretagna e Stati Uniti, la May arriva da Trump, andiamo a comandare. Bilancio 2016, utile netto a 1,8 miliardi di euro, risultati record per la Fiat Chrysler Automobile. Brindisi, la voglia di ricominciare, vedete nella parte alta della pagina della Gazzetta, le prospettive dopo le dimissioni della sindaca Carluccio, l'ex vice sindaco e catalizzatore della crisi, adesso si volti pagina. Poggia ha presa la banda delle rapine ai market, tre arresti della polizia, fatale l'ultimo colpo al supermercato Sigma. Queste dunque le notizie in prima pagina sulla Gazzetta del Mezzogiorno, andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta di Capitanata. La fotonotizia riguarda il treno, i treni meglio, le ferrovie. Tutti i treni per Roma fermeranno a Foggia. Non è possibile penalizzare 650.000 persone per recuperare 9 minuti sulla tratta. Il segretario provinciale del Partito Democratico, nonché assessore regionale del bilancio, Raffaele Piemontese, esclude l'ipotesi di uno scavalcamento di Foggia per i convogli da Bari a Roma. Guadagnare 9 minuti per penalizzare 650.000 persone è impensabile, ha detto l'assessore Piemontese, nonché segretario del Partito Democratico. Sicurezza nelle discoteche, intesa gestori prefettura. Prevenzione dei comportamenti violenti e lotta allo spaccio, un passo avanti anche se per chi lavora nel settore dell'intrattenimento, anzi un passo avanti anche per chi lavora nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo. Previsto anche un coordinamento con le forze dell'ordine per rendere le strade più sicure. L'intesa è stata sottoscritta ieri presso il Palazzo del Governo di Foggia, firmato il protocollo anche dai rappresentanti delle categorie e dagli intrattenitori, vedremo tra un po' anche il servizio. Parlamento Europeo, c'è anche l'Università di Foggia, un infopoint dell'Università di Foggia al Parlamento Europeo. È stato attivato presso la sede della Regione Puglia e la fiduciaria è Laura De Palma. Sarà lei a curare relazioni e percorsi verso bandi e linee guida che consentiranno all'Ateneo Foggiano di promuovere a livello internazionale le proprie eccellenze scientifiche. Assalto a Market, tre arresti della polizia, sono stati tutti arrestati dalla polizia ed ora sono in carcere i tre malviventi che hanno rapinato il supermercato Sigma di Via De Prospero. Orta Nova, scoperta centrale delle auto rubate, tre arresti della pubblica sicurezza. San Severo, tir dirottati dalla 16 all'autostrada, la richiesta è rimasta inascoltata. Lucera è il sindaco tutolo con il problema delle quote rosa. Poi vediamo To Be or Not To Be, Ceprin, viaggio all'interno dell'attore. Il Teatro dei Limoni mette in scena lo spettacolo sabato e domenica, lo spettacolo To Be or Not To Be, Ceprin, essere o non essere Ceprin. Torna sabato e domenica, dunque, al Teatro dei Limoni di Foggia, lo spettacolo di Francesco Niktad, interpretato da Giuseppe Rascio, non una biografia del celebre Charlot, ma una ricerca nel suo mondo interiore e nell'universo che ogni artista racchiude dentro di sé. Lo spettacolo è inserito nella decima stagione della Compagnia di Via Giardino, musiche originali di Mario Rucci. Glippo Santigliano scrive invece, in assenza di una visione, il declino è inevitabile. La narrazione sulla questione ferroviaria, il baffo, insomma, treno, Bari-Roma senza fermata a Foggia, che ha caratterizzato il confronto politico istituzionale in quest'ultima settimana, mette in mostra l'incapacità diffusa del territorio di avere sull'argomento non solo una strategia unitaria, ma anche l'ampiezza di offrire spunti di riflessione e soprattutto di contrattaccare, nello specifico all'idea di Convoi di Puglia-Roma, bypassando Foggia, con idee e progettualità. Prima pagina dell'attacco, invece, è Ombre e guerre nella ricerca sul glutine. Due dei tre inventori prendono le distanze e lo scrivono in un saggio su Science Direct. In pratica è una mazzata per i celiaci. Il sistema brevettato non toglie tossicità alle proteine. Era stato presentato come il metodo rivoluzionario per vincere l'intolleranza al glutine, una scoperta che poteva sconvolgere l'industria del grano. La diga verso la normalità. Il prefetto ha convocato il comitato operativo Viabilità per evitare possibili situazioni di criticità nella diga di Occhito. Poi vedete chi resta e chi va, Antonello, l'acceleratore di particelle senza segreti. Da 22 anni c'è un fisico di Manfredonia impegnato nei laboratori del CERN di Ginevra, ovvero il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Si tratta del 52enne Antonello Di Mauro. La sua è una storia di successo. Superminimo, cioè soldi, d'alba e telesforo avvisati, diktati dei sindacati per gli acquirenti del Donuva. Poggia, viale Fortore e via Gramsci, bucatissime e rattoppate. La rete di Barcamp senza vera cultura d'impresa. Sullo sviluppo della cultura d'impresa si concentra Barcamp, l'ultima idea in ordine di tempo dei laboratori urbani di San Giovanni Rotondo che da anni si adoperano per tentare di consegnare o indicare percorsi di sviluppo. 40 anni senza Francesco Maratea, il giornalista tollerato da Mussolini. Poi ancora, bonifiche rinnovabili, Riccardi tratta le opposizioni, però facci sapere se il progetto del fotovoltaico nella zona ex Enicam annunciato da Eni è arrivato alle orecchie dei consiglieri comunali, dell'altro studiato da Riccardi col Politecnico di Torino e all'attenzione della D. Descalzi si dicono tutti all'oscuro. La denuncia dell'ex sindaco Marinacci, San Nicandro dietro la RSSA, una precisa regia. Poi ancora, fuori la bella Zamparese, Metta fa strage di donne, crisi da Terza Repubblica, Cerignola senza governo. Vediamo anche la parte alta della pagina. Bimbi vittime di abusi e record, 25 mila casi in Puglia. Paparella dice che la scuola deve fare di più. Discoteche, la prefettura blinda la movida. La prefettura lancia un invito per l'aumento della sicurezza nei locali notturni. Sottoscritto ieri mattina in prefettura un accordo con le associazioni di categoria, dei gestori, dei locali pubblici danzanti. È stato sottoscritto un protocollo. Calcio, stroppa, quanti dubbi per la Virtus. Il tecnico deve risolvere alcuni nodi per il Francavilla. Di piazza è pronto al gol. Poggio è impegnato domani a Rozzaccheria alle 20.30 contro una delle rivelezioni del campionato, la Virtus Francavilla. Oggi, stamattina alle 12.30, è prevista una conferenza stampa del tecnico Giovanni Stroppa. Vi eccoci all'interno della Gazzetta del Mezzogiorno, nell'edizione nazionale. Vedete, Sanità in Puglia, Divina Providenza, Slit, l'intesa. Universo Salute porta alla piattaforma e chiede unità ai sindacati. Si andrà probabilmente al referendum. Dipendenti riassunti ex novo, rinuncia al pregresso, via le voci di salario accessorio e taglio del 20% sui costi. La FIAS fa muro. In certezza sul piano industriale, il gruppo mantiene le carte coperte per evitare vantaggi a possibili acquirenti. CGL parla di passi in avanti. L'USPI dice invece che non c'è alternativa. Poi vediamo, prima di lasciare le pagine nazionali, andiamo a vedere il bilancio definitivo del disastro, della tragedia del Rigopiano. Estratti tutti i morti dall'hotel Rigopiano. Molto pesante il bilancio. 29 le vittime, 11 sopravvissuti. Uno spettacolo apocalittico. Cardinali, funzionari dei vigili del fuoco, responsabili dei soccorsi. Quando siamo arrivati qui, affiorava solo il tetto. Ora veniamo alla gazzetta di Capitanata. Sicurezza urbana. Grazie ai falchi. Arrestati tre rapinatori dalla polizia per il colpo al supermarket Sigma di Via De Prospero. Dopo l'inseguimento lungo le vie della città, i tre portarono via la cassa con 815 euro. Tra i complici anche un giovanissimo di 20 anni. Vediamo il servizio della nostra redazione. Il pronto intervento dei falchi della squadra mobile di Foggia ha permesso di individuare ed arrestare subito dopo la rapina perpetrata ai danni del supermercato Sigma in Via De Prospero a Foggia, gli autori del colpo. Come si evince dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del market, dopo la rapina i due banditi si sono allontanati a bordo di una Fiat Panda, risultata rubata, guidata da un complice. Intercettati in zona dalle volanti, i tre dopo essersi liberati di alcuni indumenti che indossavano hanno tentato la fuga a piedi. Gli agenti dopo un breve inseguimento hanno bloccato il trentenne Rocco De Rosa e il cugino, l'omonimo Rocco De Rosa, di 26 anni. Il terzo rapinatore, anche egli pregiudicato, il ventenne Leonardo Faleo, è stato bloccato a fuoco più tardi presso la sua abitazione. Recuperato il bottino, circa 800 euro, e la pistola giocattolo utilizzata nella rapina. Rapine e esercizi pubblici sono sempre piuttosto imprevedibili, nel senso che possono accadere in qualsiasi momento, in qualsiasi parte della città. L'aiuto però delle telecamere di sorveglianza credo sia un supporto davvero importante per risolvere presto questi casi. Beh, assolutamente sì. Le telecamere assolutamente sono importantissime. Molto spesso hanno fornito degli spunti investigativi particolarmente importanti. Nel contempo, naturalmente, c'è un'azione costante, d'intesa con la Procura Repubblica di Foggia, di avviare un'attività di contrasto nei confronti di questi particolari reati, che come bene, buon capisce, sono particolarmente frequenti in questo centro, e quindi necessariamente devono essere contrastati. Il gruppo dei Falchi sta ottenendo comunque un grosso risultato. Più o meno l'80% degli autori di queste rapine sono stati quantomeno fermati o arrestati. Sì, assolutamente sì. Il personale del gruppo Falchi, che appunto è incardinato in una sezione criminalità diffusa, come finalità specifica contrastare questi reati, e devo dire che i ragazzi hanno sempre portato ottimi risultati. Si torna a parlare della vicenda dell'ex distretto, degli sfrattati soprattutto dall'ex distretto militare. Vanno aiutate le famiglie effettivamente bisognose della casa. Ci risulta infatti che questa gente non era tutta abusiva. Vi erano famiglie con tanto di legittima assegnazione per l'emergenza abitativa e ci risultano accertamenti patrimoniali fatti dal Comune che danno la misura di determinare chi ha diritto ad essere legittimamente aiutato e chi no. Lo sostiene Forza Nuova che domani organizzerà una manifestazione all'ex distretto col segretario nazionale Fiore. Vorremmo ricordare che in strada ci finiranno nuovamente disabili donne e bambini che per 45 giorni sono stati accampati sotto una tenda. Siamo consapevoli che quel compresso non è più adibito ad essere abitato ma è destinato a pubblici uffici. Ma un'alternativa a questa gente deve pure essere data, dice Forza Nuova. Produzioni record nel 2016 è la FTP, Fpt, che lo scusa Industrial Ex Sofim. Lo sottolinea Miraballo, segretario della Wilm. Confcommercio, con i confidi, siamo pronti a finanziare il sistema delle imprese foggiane. Con le recenti modifiche normative è possibile per il sistema Confidi concedere direttamente il credito alle imprese affiancandosi al circuito bancario. Una facoltà consentita soprattutto per garantire l'accesso al credito delle micro imprese su finanziamenti con importi minimi con le banche, particolarmente nel Mezzogiorno d'Italia, che tendono a concedere con difficoltà. Le banche tendono a concedere con difficoltà. Sicurezza nelle discoteche. Intesa, gestori, prefettura per la legalità negli impianti e la prevenzione di comportamenti violenti. Previsto il rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo anche lungo le arterie, nei pressi delle quali sono dislocate appunto questi locali, queste grandi discoteche, ma anche quelle più piccole. Dunque, è stato sottoscritto un protocollo di intesa ieri in prefettura tra la prefettura di Foggia e i gestori dei locali pubblici adibiti a ballo, quindi discoteche, sale da ballo e quant'altro. Vediamo il servizio. La prefettura di Foggia e le associazioni di categoria dei gestori di discoteche locali di intrattenimento e spettacolo hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a coinvolgere e responsabilizzare gli imprenditori del settore per la diffusione della cultura e della legalità e per garantire più sicurezza ai frequentatori dei locali pubblici. A sottolineare l'importanza del protocollo, il prefetto Maria Tirone. È un protocollo che innanzitutto va a istituzionalizzare, a rendere sistematica una collaborazione fra i gestori dei locali di trattenimento, danzando, le discoteche e le forze di polizia e quindi a sviluppare percorsi virtuosi che si muove su più finalità che ovviamente hanno un unico fine più grande che è quello di favorire nei frequentatori delle discoteche la cultura della legalità, prevenire l'abuso di sostanze alcoliche o l'uso di sostanze stupefacenti, garantire al massimo la loro sicurezza. È previsto che i gestori innanzitutto nominino un referente per la sicurezza che sarà quindi il momento di collegamento con le forze di polizia. Ma ovviamente non è solo questo. Loro adotteranno un codice di comportamento all'interno della discoteca, che ovviamente è un codice che tende a portare i giovani a rendersi consapevoli dei pericoli e anche della necessità di rispetto degli altri. Parliamo di cultura della legalità tucur con la possibilità quindi di allontanare e non ammettere nella discoteca le persone che violano questo codice. Renderemo più penetranti, ovviamente non posso dire tutto quello che è previsto, ma i controlli su improvvisate discoteche, improvvisati locali di trattenimento che non hanno l'agibilità. Quali sono i fenomeni più diffusi in questo tipo di locale e quindi anche più difficili da combattere? Guardi, in questo tipo di locale ovviamente parliamo in termini molto generali. I rischi quali sono in alcuni? L'abuso di sostanze stupefacenti e il rischio di spaccio. Ovviamente se c'è una bella collaborazione, se c'è personale qualificato che ha i requisiti assunto, diventa più facile contrastare i fenomeni di spaccio in prossimità o all'interno. Una collaborazione a cui hanno aderito le più importanti organizzazioni associative di categoria. Partiamo dal presupposto. Dunque, un importante protocollo d'intesa per dare più sicurezza ai frequentatori, soprattutto i giovani, delle discoteche dei locali da ballo. L'Università di Foggia, alla conquista di Bruxelles, apre un infopoito al Parlamento Europeo, intercetterà bandi e programmi fiduciari a Laura De Palma, delegata di fiducia dell'Ateneo, appunto Laura De Palma, che presiderà l'Infopoit per quasi l'intera settimana. L'Istituto Zoo Profilattico si rischia l'implosione. Lamentati troppi tagli, mancata programmazione e lentezza gestionale. I dipendenti dicono la direzione strategica guarda al passato. Foggia non dovrà essere scavalcata. Treni da e per Roma. Piemontese dice no al sindaco di Bari, De Caro, e alla sua proposta. Il risparmio per i baresi sarebbe di 9 minuti, ma verrebbero penalizzati 650 mila abitanti. Pianeta Salute, dal tunnel dell'alcol si esce con le famiglie. Spesso il fenomeno è collegato anche al gioco d'azzardo. La convention, domani a Palazzo Dogana, aperta a tutti i club che si occupano del fenomeno, alcolisti anonimi e quant'altro, provenienti dall'intera regione. Poi vedete, al piccolo seminario, il servizio nutrizionale dell'ASL presenta il bilancio di 10 anni di attività. La conclusione, la sana alimentazione batte il cancro. Ed ora andiamo a vedere la pagina sportiva. Ultime ore, ultimi giorni di calcio mercato. Il Foggia non vuole fallire la sfida con il Francavilla. Domani si torna a giocare lo zaccheria dopo la sosta natalizia e dopo la prima trasferta per fortuna vittoriosa del Foggia a Vibo Valencia. La rivelazione nel campionato Francavilla arriva a Foggia. Nel frattempo Letizia è stato ceduto a Cosenza in prova con i rossoneri congolese in Zembo, 21 anni, laterale dello Charles-Rouin, la Serie A francese. Andiamo dunque a vedere un attimo quelli che sono i movimenti di mercato del Foggia che sicuramente in queste ultime ore si accentueranno per cercare di chiudere il cerchio. Intanto vedete la foto del francesino in prova, Zembo del Congo, 21 anni, proviene dunque dalla Serie A francese. Si parla delle, si è fatto qualche operazione in uscita per quanto riguarda il Foggia, Letizia è stato ceduto in prestito, lo vedete nella foto, alla nuova Cosenza, dunque alla Cosenza, mentre il Foggia sta trattando l'acquisizione di un esterno alto sinistro, difficile riportare a Foggia Floriano perché la Catarese naturalmente se lo tiene ben stretto pur essendo un giocatore di proprietà del Foggia e quindi in prestito secco. Si, gli obiettivi del Foggia restano ancora un difensore esterno-sinistro dall'alternativa a Rubin eventualmente e un altro difensore destro in pratica che dovrebbe eventualmente sostituire Angelo quando dovesse mancare il brasiliano. Potrebbe arrivare Matteo Zanini un classe 94 dall'Akragas questo è un giocatore interessante per quanto riguarda il ruolo di terzino-sinistro esterno. l'altro candidato è Alessandro Celli anche egli un 94 per quanto riguarda invece l'esterno-alto dopo il discorso di Froiano che abbiamo appena fatto c'è una trattativa che il Foggia potrebbe eventualmente chiudere nelle ultime ore di mercato proprio con il Catania per l'acquisizione di Andrea Russotto già altre volte nel merino del Foggia un giocatore che piace molto anche a stroppa c'è anche un altro nome di cui si parla Milinkovic del Messina sono tutte trattative avviate o quantomeno a livello di sondaggio ma che potrebbero trovare un'accelerata nelle ultime ore sembra ormai chiaro che Coletti resta a Foggia dunque non partirà così come ancora da vedere un po' la situazione di Martinetti in un primo momento è sembrato potesse partire ma anche qui potrebbe esserci qualche ripensamento l'altro elemento del Foggia richiesto da meno un paio di squadre è Cosimo Chirico con il quale in pratica con la Ternana sembra stia cercando un accordo e il Foggia potrebbe dunque cedere anche Chirico alla Ternana questi sono movimenti di mercato oggi intanto la conferenza stampa che anticipa la partita di domani di Stroppa che probabilmente darà qualche notizia per quanto riguarda la formazione da allestire domani per affrontare come dicevamo una delle rivelazioni del campionato per la Virtus Francavilla che sta facendo davvero molto bene vediamo adesso lo sport sull'attacco vediamo le pagine curate da Pino Autunno oggi intanto la memoria tramandata attraverso l'anima migliore e libera della Puglia non solo Auschwitz sono previste tante iniziative per quanto riguarda la giornata della memoria ma andiamo a vedere dicevamo la pagina sportiva ecco qua Poggia scocca l'emergenza formazione per stroppa tanti rebus di piazza pronto ad esultare Rozzaccheria domani in casa di fronte ci sarà un avversario in salute e che sulle ali dell'entusiasmo andrà a caccia dell'impresa quella di battere appunto il Foggia il bomber prova già a sognare il primo gol il match contro il Francavilla offre spunti di riflessione senza ottimismo ci vorrà lo stesso Foggia cinico e sbarazzino di quel 15 dicembre scorso poi ancora i 90 minuti di Vibo Valencia non fanno testo erano i primi del 2017 ma da sabato spazio ai nuovi arrivi in casa Foggia Figliomeni si candida a un posto da titolare al centro della difesa dunque potrebbe fare l'esordio anche Figliomeni difensore centrale così come ormai quasi certo l'impiego di piazza Lussotto più vicino la Calarese complica l'arrivo di Floriano vedete qui nella parte bassa della foto di Floriano al momento salgono le quotazioni dell'esterno del Catania che potrebbe fare al caso di Stroppa l'ex attaccante rosso nero invece di Floriano appare più lontano la Calarese ha ceduto Calì esterno d'attacco proprio come Roberto Floriano quindi a maggior ragione diventa difficile che possa liberare l'esterno per Foggia liberazione Virtus Francavilla playoff a un passo Calabro è un cultore dei dettagli e la squadra affronta qualunque avversario sempre allo stesso modo sarà così anche contro il Foggia voi vedete Francavilla in realtà è piccola per modo di dire perché anche se non è partita per giocare una stagione di vertice gioca bene l'uomo del momento in casa Francavilla è sicuramente Mbalanzola la Virtus nelle prime 22 giornate di campionato ha totalizzato 36 punti quinto posto in classifica Letizia va in prestito a Cosenza in prova a Zembone abbiamo già detto l'esterno è arrivato quest'estate va in Calabria per giocarsi più chance di giocare il giovane Berga proverà a restare ed è tutto per oggi termina qui la nostra segna stampa a voi tutti grazie per l'attenzione vi rimandiamo alle prossime edizioni begli aggiornamenti buona grazie a tutti Grazie a tutti.